Ciao cari amici, come scriveva un classico russo nella sua opera Immortale, adesso vediamo se qualcuno di voi riuscirà a ricordare di che opera si tratta, se ricordate scrivetemelo nei commenti. C'è questa frase che in Russia è diventata una frase alata, molto usata anche al di fuori della letteratura, quando qualcuno vuole informare qualcun altro di qualche fatto negativo, usa questa frase che io sto per dirvi. La frase è questa, che cattiva notizia che porto io a casa tua, Tatiana. Questa è di un'opera letteraria russa, molto famosa, di uno dei più grandi pilastri della letteratura, chi di voi riuscirà a ricordare, ditemi. Comunque io anche oggi vi dico che brutta notizia che porto a casa vostra, cari amici, perché vi sto per raccontare una cosa un po' preoccupante. Ovviamente io penso che tutti noi, tutti quelli che si incontrano su questo mio spazio YouTube, a parte qualche ignorante sostenitore della NATO e di guerra che viene qua solo per rosicare, in grande linee io e voi penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che la guerra è una brutta cosa e tutti noi vorremmo che al più presto si instaura la pace ovunque, non solo in Ucraina, in Russia, in altri paesi. Io penso che alcune persone vivono male questa situazione quando nel mondo ci sono le tensioni, ci sono persone che sono fatti proprio psicologicamente in tale modo che soffrono quando ci sono le notizie di guerre, di ostilità, di terrorismo, di problematiche, si sentono coinvolti. Io penso che molti di queste persone normalmente frequentano anche questo canale. Poi ci sono persone come me che la guerra l'hanno vissuta e proprio per questo motivo sono contrarie alla guerra. Come diceva mio amico Bonanima Gino Strada, quando con lui si parlava di guerra, di perché bisogna essere contraria alla guerra, lui appunto non diceva di essere pacifista, lui era un po' critico nei confronti di questa parola. E lui più di una volta ha detto, io ho sentito dire proprio in pubblico, lui ha detto io non sono pacifista, io sono contro la guerra e questa diciamo un po' è anche la mia posizione. Io ho vissuto la guerra, la prima guerra a 12 anni, era molto brutta, era tra le più brutte guerre che ho visto. Non esistono le guerre ovviamente belle, io assolutamente non voglio dire che una guerra è meglio dell'altra, solo che ci sono le guerre più violente e ci sono le guerre meno violente. Ci sono le guerre dove magari come adesso in Ucraina c'è una parte che cerca di salvare la vita dei civili, cerca di fare di tutto per coinvolgere di meno civili all'interno dello scenario bellico e noi lo vediamo. In Ucraina ad esempio le città che non sono letteralmente coinvolti nella guerra, cioè quelli che non si trovano sulla linea di contatto o nei pressi della linea di contatto, vivono comunque una vita pacifica, a parte qualche bombardamento nelle strutture come succede ad esempio a Kiev o in altre grandi città. Gli ucraini non è che vedono tutta questa guerra, tutti questi bombardamenti a tappeto come ad esempio sono di solito le guerre che organizzano gli anglosassoni, cioè paragonare Ucraina con Iraq è impossibile. Quando americani in prime due ore hanno fatto più di 200 mila morti in primi due ore di bombardamento di Iraq perché hanno sganciato su questo povero paese tutto l'arsenale che avevano, mancava solo che buttassero l'atomica, Ucraina una cosa del genere non ha ancora visto. Perché? Perché lì in Kremlin c'è una persona che non vuole assolutamente coinvolgere i civili. E poi ci sono le guerre dove invece appunto si arriva a un tale livello di utilizzo di armi e a un tale livello di combattimenti che purtroppo cari amici non c'è spazio per niente, non c'è spazio per la pace, non c'è spazio per la salvezza, non c'è spazio per nessun tipo di dialogo, c'è solo morte e distruzione. Io ho vissuto una di queste guerre. Quando da noi in Transnistria nel 1992 sono arrivati questi personaggi nazionalisti filo Nato già all'epoca spinti da vari meccanismi della Nato, da vari lobby, tra l'altro lì anche da noi la lobby ebraica si è distinta in maniera molto negativa perché io parlo male sempre della lobby ebraica, non perché io sono antissimita perché la lobby ebraica e il mondo ebraico sono due cose completamente diverse. Essere ebreo non vuol dire essere ebreo mafioso coinvolto nel complotto internazionale. Qua è come dire che tra Italia e la mafia esiste un'enorme distinzione, non tutti italiani sono mafiosi e stessa cosa la lobby ebraica. Non tutti ebrei sono cattivi lobbisti che vogliono distruggere il mondo e che impegnano proprio il denaro per creare le guerre, per rovinare i popoli e per guadagnare su queste cose i propri percentuali. Anche da noi all'epoca la lobby ebraica si è contraddistinta, ad esempio loro hanno investito moltissimo nella creazione del nazionalismo, loro hanno armato i mercenari e già all'epoca il nome Soros a noi suonava come il nome del nemico, come colui che ha creato l'incubo che noi abbiamo vissuto. Io dall'epoca di 1992 ricordo che la cosa più terribile della guerra è che arriva senza nessun annuncio, nessuno ti dice aspetta 10 secondi, conto a rovescio, adesso arriva la guerra. È arrivata improvvisamente senza che nessuno ci ha avvisati, c'erano tantissimi segni, questa è una cosa che ho imparato a interpretare dopo questo conflitto, io ho capito che per sopravvivere in questo mondo bisogna imparare a leggere i segni, quando ci sono i segni che dicono che in un paese può accadere qualcosa di brutto, bisogna fare di tutto per andare via da questo paese per evitare di finire in guerra. Questa in grande linea è stata il mio modo di cercare la pace, di fuggire dalla guerra, poi alla fine sono finito anche nell'esercito, ho fatto militare, ho dovuto anche finire più volte nelle zone dove c'erano i conflitti, le guerre e comunque in tutte queste situazioni cari amici ho imparato una cosa, tutto quello che accade ha una sequenza di eventi logici, attorno alla guerra di solito si crea una enorme marea di bugie, propagande, bugie, raccontano false verità, falsa storia viene creata, si inventano addirittura le identità storiche, le identità nazionali, ad esempio Ucraina è uno di questi esempi, in Ucraina hanno creato un paese fitizio e finto che non ha mai esistito, una nazione che non ha mai esistita, si tratta comunque sempre dei russi che però sono stati convinti nei secoli da polacchi, da ostro-ungarici di essere una razza a parte, tanto che odiano a morte proprio i loro fratelli, i russi, questa cosa contraddistingue l'Ucraino medio, l'Ucraino medio non ama la propria patria, lui nazionalista non perché ama la propria patria, la propria nazione, lui odia i russi, l'Ucraino è l'Ucraino perché odia il russo, quindi odia una parte di sé, odia le proprie radici in funzione di sfruttamento politico da qualche potente di turno, che può essere un polacco, può essere un austro-ungarico oppure adesso noi abbiamo la lobby ebraica, adesso noi abbiamo le persone che arrivano da Washington, dall'Inghilterra e da altri luoghi dove alle persone, ai potenti comodo che l'Ucraino odia i russi, infatti lo armano e lo mandano in guerra per questo. Comunque una delle cose che io ho imparato in questi anni in cui cerco di capire la logica di eventi che sta dietro alle guerre è interpretare diversi segni, segni sono molto importanti, ad esempio vi faccio capire una cosa, se voi vedete che in un paese gli ebrei cominciano in massa andare via senza dire niente a nessuno, semplicemente famiglie ebraiche abbandonano un luogo, questo è successo ad esempio in ex Yugoslavia, questo è successo da noi nel 1992, noi nel 1992 stavamo per essere attaccati da quel gruppo operativo tattico che hanno creato sul territorio della Moldova appunto vari oligarchi, vari personaggi che hanno deciso di distruggerci, ucciderci perché noi eravamo russi e gli unici che sono scappati dal nostro paese abbandonandolo quasi completamente era la comunità ebraica, l'hanno fatto prima, l'hanno fatto molto prima, questo significava che loro sapevano ciò che stava accadendo, poi si è saputo che sì, in effetti nelle loro associazioni culturali, nelle loro sinagoge arrivavano i messaggi prima vilati, poi meno vilati, poi proprio espliciti dove la gente diceva guardate che Transnistria è un luogo dove ci sarà la guerra, quindi dovete abbandonare la Transnistria, vendete le vostre case, vendete le vostre averi, prendete biglietti aerei e andate in Israele o andate negli Stati Uniti d'America, noi vi aiuteremo perché qua ci sarà un massacro, uccideranno le persone, ci sarà una guerra e quindi uno dei primi segni che in un paese ci sarà la guerra è proprio gli ebrei che scappano e da noi era così. Poi un'altra cosa che accade sono le concentrazioni ovviamente, concentrazioni molto strane della tecnica militare. Se voi vedete che iniziano delle strane esercitazioni, esercitazioni congiunte, non sono mai state, improvvisamente appaiono queste esercitazioni, così da noi anche nel 91 la Moldova, Moldavia appena staccata dall'Unione Sovietica, ha fatto una stranissima esercitazione insieme con la Romania. A che cosa serviva questa esercitazione, cari amici? Serviva a trasportare dalla Romania sul territorio della Moldova una quantità necessaria di mezzi militari e anche di militari stessi, che poi sono rimasti lì, sono venuti dicendo ma noi siamo qua giusto per fare esercitazioni, poi non sono mai andati e poi nel 92 hanno assaltato la nostra Transnistria e hanno cominciato a massacrarci. Questi sono, cari amici, alcuni segni, poi ci sono segni economici, sta cadendo la valuta nazionale, stanno andando via le compagnie importanti da un paese prima della guerra, perché di solito ci sono i ricchi che vogliono salvare la propria ricchezza. I ricchi che hanno tanti soldi, hanno accesso all'informazione, sanno sempre molto di più, sono sempre ad un passo rispetto all'informazione, rispetto alle persone semplici, normali, ai cittadini e quindi quando accade qualcosa è ricco già con le valigie e se ne va, mentre la gente comune ancora sta leggendo giornali, sta leggendo quello che raccontano vari contaballe, tra l'altro non bisogna mai fidarsi del giornalismo in questi casi, per capire realmente se succederà o non succederà una guerra, l'unica cosa è non credere a ciò che scrivono i giornali, perché il giornale, il mainstream in generale, lavora per gli interessi di qualcuno e queste cari amici sono le basi che una persona intelligente applica per capire cosa succederà, se sarà una guerra, a che cose si sta preparando e così via. Quindi oggi vorrei darvi una brutta notizia perché ci sono tutti i segni logici che di nuovo ci sarà la guerra in Transnistria, in pratica ci sarà probabilmente una guerra che vedrà l'impegno dei mezzi della Nato e probabilmente dalla Romania ci sarà un attacco contro la Transnistria e allo stesso tempo probabilmente attaccheranno anche gli ucraini, Transnistria dalla parte ucraina, quindi Transnistria sarà attaccata da tre direzioni, dalla Moldova dal nord dove di recente ci sono stati le esercitazioni con la Nato, hanno partecipato i paracadutisti, hanno partecipato i paracadutisti statunitensi, hanno partecipato i tedeschi, hanno trasportato dei mezzi e ci sono anche i riparti moldavi lì, quindi le esercitazioni ci sono state e anche lo scenario di esercitazioni non era per niente nascosto, era molto chiaro, loro sono preparati per agire dalla zona del nord della Moldova verso la Transnistria. Poi dalla zona più al sud dove la Romania confina con l'Ucraina si sospetta che i riparti rumeni insieme con Stati Uniti d'America, con i Marines, attraverseranno il territorio ucraino, quindi Ucraina aprirà per loro le porte e loro colperanno Transnistria dalla parte del sud ovest con le forze che arrivano dalla Romania. Per questo motivo gli Stati Uniti proprio altro giorno hanno approvato la vendita di 44 veicoli d'assalto anfibi cingolati che si chiamano a AV7, la vendita di questi veicoli è avvenuta alla Romania, costo totale di questa operazione 210 milioni di dollari cari amici perché gli americani non regalano niente, non fanno niente gratis e questi veicoli saranno forniti dalle scorte del corpo dei Marines degli Stati Uniti, si tratta di veicolo principale del quarto battaglione anfibio d'assalto, se voi andate in internet troverete questo quattro battaglioni d'assalto sotto una sigla prima numero 4 e poi AABN, questa è la riserva del corpo dei Marines degli Stati Uniti, riparti operativi d'eccellenza che sono stati creati proprio per svolgere le operazioni nei quali bisogna assaltare i luoghi che si trovano dietro alle barriere naturali acquatiche, quindi fiumi, laghi, piccole baie nel mare e così via. Questa gente è in grado di sbarcare nel mare da grandi navi con questi veicoli AV7 e questi veicoli sono progettati per condurre operazioni anfibie nella zona costiera, sono in grado di percorrere nell'acqua diversi chilometri, un veicolo può ospitare fino a 25 militari e ha poi tre membri di equipaggio che lo guidano e anche all'interno dei veicoli si può trasportare leggeri mezzi, ad esempio i quad, piccoli auto blindo, le motociclette, quindi questi Marines che sbarcano possono avere anche dei riparti molto mobili, loro entrano in azione subito a bordo di questi quad, ad esempio a quad vanno in quattro, con motociclette vanno in due e così via. Riescono a penetrare veloce in un territorio, cominciano a fare subito lavoro dei riparti di sabotaggio, staccano energia elettrica, distruggono acquedotti, cominciano a piazzare i loro sistemi di puntamento per l'artilleria e ovviamente fanno scontro di fuoco con i riparti di difesa locali. Per cui, cari amici, un paese non compra i veicoli del genere solo perché, ma sì, non abbiamo niente che fare, cosa facciamo? Abbiamo 210 milioni di dollari qua sul tavolo, non sappiamo come spenderli. Ah, ma compriamo un po' di AV7 che serve per attraversare il fiume, tanto probabilmente noi in questo modo ci divertiremo, non lo so, porteremo i nostri figli in giro per i fiumi della Romania. Se Romania acquista questi veicoli vuol dire che c'è già un piano pronto del loro utilizzo. Io vi ricordo che la Nato non fa niente senza una pianificazione perché la Nato è una struttura militare, qualsiasi struttura militare se sposta un veicolo di una tipologia da un punto A a un punto B, c'è una logica per questo spostamento. Quindi quando io ho letto questa notizia sul fatto che i romeni hanno comprato AV7, io subito ho capito che si tratta di preparazione per assalto della Transnistria attraverso il fiume Dniester. Cari amici, assaltare Dniester loro possono solo nella parte sud della Transnistria, più o meno dove si trova la mia città. Probabilmente proprio questa forza con questi veicoli e secondo me anche con partecipazione dei marines americani perché io non penso che i rumeni andranno a questo assalto da soli. Lì come anche abbiamo visto in Ucraina sicuramente ci saranno appoggi dalla Nato, ci saranno Stati Uniti, ci saranno britannici, ci saranno mercenari provenienti da tutto il mondo. Come d'altronde era già successo nel 1992? Nel 92 non è che i rumeni con i moldavi sono arrivati in Transnistria a fare la guerra da soli, loro erano sopportati ampiamente da anglosassoni, c'erano i mercenari, c'erano i militari della Nato camuffati per i volontari, c'erano persone che coordinavano tutto questo, che alcuni di loro sono stati uccisi, alcuni sono stati presi in ostaggio, ad esempio il famoso terrorista criminale rumeno Jelashko che tra l'altro personalmente ha ucciso diverse famiglie dei russi nei villaggi moldavi, era una persona simile a quelli terroristi che nei Balcani sono stati utilizzati dalla CIA per scatenare la guerra nei Balcani, un pazzo nazionalista a cui hanno slegato le mani, hanno messo in queste mani le armi, le hanno pure pagato i soldi, quelle della Nato e lui tra l'altro è stato catturato da transnistriani, è passato diversi anni in carcere in Transnistria, è poi tornato in Romania, è diventato se non sbaglio parlamentare o senatore, le hanno dato in Romania pure un importante riconoscimento. Comunque questo di Jelashko è la cosa interessante è che è stato preparato dai militari della Nato perché mentre lui era in carcere in Transnistria ovviamente lui parlava, raccontava, ci sono ore di video registrate che tra l'altro si trovano su YouTube dove lui racconta come lui è stato preparato, addestrato dai militari della Nato, che agiva con i militari della Nato, che c'erano americani, c'erano inglesi, c'erano persone che provenivano da paesi occidentali che hanno utilizzato lui e i suoi uomini per gli interessi per fare la guerra. Quindi cari amici è molto chiara questa intenzione attuale di assaltare la Transnistria perché chiaramente i russi vorrebbero riprendere la Transnistria. Ciò che adesso succede in Ucraina è che i russi lentamente, piano piano, stanno andando verso la conquista delle regioni storiche che appartenevano alla Russia, non si sa quanto tempo ci metteranno, un anno o due anni, secondo me ci metteranno parecchio tempo, non succederà una cosa simile in sei mesi. Dall'altro canto c'è la Nato che si sta preparando anche per fare la cattura della Transnistria prima dei russi, prima che arrivino i russi. In Transnistria c'è distanza 14esima armata russa che è abbastanza grande, ci sono tanti magazzini di armi che gli ucraini vorrebbero conquistare perché queste armi darebbero all'Ucraina possibilità di prolungare la guerra per qualche altro mese, non mese, qualche altro anno forse perché le armi sono tantissime, quelle che si trovano in Transnistria. E quindi è comodo sia per ucraini che per Moldova di Maia Sandu, Moldova pro Nato, Moldova che vuole trasformarsi in uno strumento antirusso così come l'ha fatto già Ucraina. Io non parlo di tutti i Moldavi, la gran parte dei Moldavi non vuole questo, la grande parte dei Moldavi sono persone bellissime, lavoratori, padroni della loro casa, vogliono la pace, vogliono lavorare, vogliono stare sereni. Poi c'è una parte di persone che stanno al potere, che sono molto legate alla corruzione diffusa dalla Nato, una di queste è Maia Sandu e poi ci sono i suoi sgherri, loro sì che lavorano per portare la Moldova al livello dell'Ucraina, cioè trasformare la Moldova in un'arma contro la Russia. Ovviamente a scapito del popolo moldavo ha scapito degli interessi dei Moldavi, perché ciò che succede quando entreranno in azione queste persone, la Nato io intendo sul territorio della Moldova, è che porteranno la guerra e la guerra non farà bene né ai transestriani, ma non fa bene neanche neanche ai Moldavi, la guerra toccherà a tutti. Questo ovviamente loro, i nazionalisti non raccontano questa cosa quando parlano del fatto che bisogna prendere la transnistria, che male arriverà per tutti. Comunque quando si valuta questa cosa, questi veicoli di quali ho parlato io, AAV7, sono progettati per condurre operazioni anfibie, come vi ho detto, nella zona costiera, un veicolo può ospitare fino a 25 militari e in tutto sono stati acquistati 44 veicoli e questi 44 veicoli potranno spostare 1.100 militari, in realtà si tratta di due battaglioni dei Marines, quindi probabilmente questi veicoli attraverseranno ostacoli d'acqua a distanza di una trentina di chilometri, loro non sono in grado di andare di più, ma tanto non serve andare di più perché in Transnistria il fiume Dnestra è abbastanza stretto, quindi attraverseranno con calma il fiume, usciranno sulla parte transnistriana, dalla parte della Moldova, in Moldova loro arriveranno dal territorio dell'Ucraina perché l'Ucraina dalla Romania farà passare verso sud di Moldova, poi da lì entreranno sul territorio di Transnistria e da lì inizieranno a fare la guerra, quindi si tratta di un gruppo di sfondamento, questo sarà sicuramente un piano d'assalto, perché parteciperanno relativamente pochi uomini, cioè 1.100 uomini non sono tanti, ma come un gruppo d'assalto basta e avanza, quindi se non compreranno altri veicoli con la base di quelli che hanno comprato loro sicuramente potranno fare già un'operazione d'assalto tranquillamente. Comunque diciamo che la Romania non sarà in grado di consegnare gli anfibi tramite navi da sbarco a causa di loro assenza, loro non hanno navi da sbarco in servizio, i rumeni sicuramente trasferiranno gli steccamenti avanzati per via terra usando i camion, usando i mezzi per trasporto di mezzi corazzati e poi dopo si sederanno in questi veicoli proprio quando attraverseranno il fiume di Niestra. Allo stesso tempo sotto la guida della Nato continua a crescere anche la militarizzazione della Moldova, cari amici, questa è una cosa importante. La maggior parte delle esercitazioni militari moldave quest'anno si sono svolte con la partecipazione delle truppe rumene, tedesche e statunitensi. Specialisti di questi paesi hanno sviluppato un progetto e stanno supervisionando la costruzione di una nuova base militare, un campo di addestramento e un deposito di munizioni nel villaggio di Bacioi che si trova a soli 25 km dalla Transnistra in pratica questa base è attaccata alla Transnistria e già molti dicono che costruzione di una base del genere in questo luogo serve per creare una roccaforte d'appoggio per le operazioni d'assalto, è molto semplice. Serve un luogo da quale arriva la logistica, un luogo dalla quale arrivano i mezzi per essere mobili, per poter muoversi veloce e quindi hanno creato questa base appositamente. Gli standard dell'Allianza Nordatlantica vengono implementati ovunque nelle forze armate della Moldavia, gli ufficiali e soprattutto giovani vengono addestrati secondo programmi della Nato, spesso vengono mandati in Francia, Germania, negli Stati Uniti d'America, paesi che hanno aumentato anche l'assistenza tecnico-militare, alla Moldavia nella speranza di rafforzare il potenziale dell'esercito moldavo. Ovviamente queste azioni creano una serie minaccia per gruppo operativo delle forze russe nella regione Transnistria, lì i russi stanno anche preparando a queste azioni. Purtroppo nello scenario peggiore Transnistria sarà attaccata da tre parti, dall'Ucraina, da Nord della Moldavia e da Sud della Moldavia. Quindi io penso che se io ho capito queste cose, Nicola e Lilin stando in Arabia, lo capiscono benissimo anche i russi che stanno in Transnistria e quindi si preparano, loro hanno aeroporto militare, loro hanno tutto per difendersi. Quindi Transnistria è anche da quello che so io attraverso i miei contatti, è pronta alla guerra, loro non hanno problemi, non sono giù di morale, anzi loro dicono noi abbiamo resistito una volta e resisteremo anche la seconda, non c'è nessun problema. È ovvio che si tratta comunque di una cosa bruttissima perché si tratta di una guerra che per l'ennesima volta la Nato attraverso i terzi porta in un paese pur di seguire i propri biecchi interessi. Questa è una cosa brutta. Amici, con questo io vi invito di, come sempre alla fine dei miei video, di informarvi in maniera corretta e obiettiva. Sul mio canale privato Telegram io pubblico tutte le informazioni che di solito vengono censurate, nascoste o strumentalizzate del nostro mainstream corrotto. Se volete abbonarvi il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Se volete seguirmi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video e condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro su questa piattaforma online. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.